Alti piani oltre Fersina, prova di forza dei perginisi che dopo un ottimo primo tempo chiudono la partita. Nelle prime battute non sa mai esserci una squadra superiore, ma al quarto d'ora Gilly segna il suo punizione dal limite dubbi e porta avanti gli ospiti. Poco dopo Casa Grande raddope su corner e a 10 dall'intervallo firma anche la doppietta. A fine primo tempo i locali rimangono in 10 e al cinquantottesimo arriva anche l'autogol che vale lo 0-4. I padroni di casa trovano comunque una reazione e accorciano con Grob Lechner e un rigore di Morretti. Termina 2-4. Audace e Invicta Duomo sono gli ospiti a imporsi nei minuti finali. I bianco-azzuri cercano di fare la partita, ma le condizioni del terreno di gioco non agevolano lo spettacolo. A 5 dalla fine del primo tempo su un crostezo di Zecchetto, Rinaldo trova la scortunata deviazione che porta in vantaggio gli ospiti. Nella seconda frazione l'audace trova una bella reazione e su un errore della retaguardia pareggia con Battisti sperando anche il gol del vantaggio ma colpendo un palo. Nel recupero Tamborschi trova il gol decisivo e poco dopo Leto in contropiede mette il punto esclamativo alla partita. Finisce 1-3. Calavino-Calisio. Una bella vittoria rimonta per i grigiorossi. Nella prima frazione sono gli ospiti che cercano di dettare i ritmi schiazzando i padroni di casa nella loro metà campo. A sorpresa però il Calavino a passare in vantaggio con Inda al trentesimo, grazie anche a una crambola fortunosa tra traverso e portiere. Nel secondo tempo però il Calisio riesce anche a essere cinico e infatti Pedrotti rimette il risultato in parità al 54esimo. 8 minuti dopo Ceccato troverà doppio di tacco. A disti dalla fine i rossoneri possono pareggiare ma Tenaglia pare un rigore. Finisce 1-2. Ischia-Tesino. Si impone nettamente la formazione di casa contro un tesino anche rimaneggiato. La partita è a senso unico e l'Ischia non ha problemi nel gestire la palla e creare occasioni. Il vantaggio arriva al ventesimo con Gretter, complice anche ad un intervento non perfetto del portiere. Nelle riprese gialloneri mantengono il predominio e raddoppi lo 65esimo sfruttando una punizione calciata sorpresa da Colazzo. A 12 dalla fine la difesa si fa sorprendere e Colazzo da fuori aria beffa con un pallonetto muraro. Bella prestazione dell'Ischia che vince 3-0. Montevaccino-Volghera. Vittoria rimonta per gli ospiti. Le marcature infatti le apre Montevaccino dopo pochi minuti grazie al gol di Bortoli su cross di Rizzoli. Il match prosegue all'insegna dell'equilibrio fino al Parigi, segnato poco prima dell'intervallo con Tomasini al termine di una bella azione corale. Nel secondo tempo il Montevaccino cerca l'affondo ma manca un po' di qualità nelle giocate. Mentre la Volghera aggredisce di più la porta e colpisce una traversa con Quattara. Al 69esimo Cirino compie lo necessario da Riz che segna a porta vuota. Termina 1-2. Premiero Sopramonte. Primo trionfo stagionale per i padroni di casa. Nella prima parte di gara le due squadre si studiano e duellano a centrocampo. Poi dopo la mezz'ora il Sopramonte sfiora il gol con Bragani e Miori. Poco prima dell'intervallo Paisan colpisce la traversa e poi impegna ancora al portiere. Nella ripresa gli ospiti calano drasticamente e il premiero ne approfitta. Al cinquantesimo dalla sega si inserisce e colpisce di testa in aria firmando il vantaggio. A un quarto d'ora dalla fine Sai Li troverà doppio con un tiro dal limite. E poco dopo dalla sega segna una doppietta in contropiede. Finisce 3-0. Valsugana-Vigolana. Bella partita conclusa in parità. Inizia meglio la formazione di casa con alcune occasioni create nel primo tempo mentre la Vigolana gioca di rimessa. Alla mezz'ora su punizione dal limite Valentino Pasquazzo porta avanti il Valsugana. Ma passa poco tempo e Giacomo Tamanini pareggia i conti di testa. Nel secondo tempo un contropiede degli ospiti è letale. Vio effetta una discesa sulla fascia. Si accenta e calcia in porta trovando il vantaggio. Ad inizi dalla fine Pasquazzo trova il pareggio di testa. E nel finale Valsugana ci prova ma senza trovare il gol. Termina 2-2.